Musica Buonasera e benvenuti al TG Prato. Tragico incidente. Questo pomeriggio nel quartiere Sacro Cuore a nord di Prato uno scuterista è stato ucciso da un'auto pirata poco dopo Carabinieri e Polizia Municipale hanno fermato un sospetto che è sotto interrogatorio. Servizio. Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio al Sacro Cuore nella zona nord di Prato. Uno scuterista di 53 anni, Pompeo Giordano, è stato travolto da un'auto pirata all'incrocio tra via Sangro e via Serchio. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori l'uomo è morto. Il mezzo investitore che avrebbe bucato lo stop e preso contro mano la strada si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di un open station wagon grigia della quale è stata presa la targa. Alla guida ci sarebbe stato un orientale. L'auto investitrice sarebbe scappata contro mano in via Sangro inseguita da un testimone che poi ha fornito alla Municipale informazioni utili per il rintraccio. E infatti poco dopo, in collaborazione con i carabinieri, gli agenti di Piazza dei Macelli hanno fermato un sospetto. Si tratta di un cinese di 35 anni che è sotto interrogatorio dal pomeriggio. Tra l'altro l'auto, corrispondente a quella descritta dai testimoni e con evidenti segni dell'incidente sulla carrozzeria, è stata trovata all'interno di un'officina della zona gestita da un connazionale del conducente. una cirurgia... Grazie a tutti.